In seguito alle numerose segnalazioni di cittadini relative ai cattivi odori avvertiti nelle ultime ore a Taranto, il sindaco ha avviato una serie di controlli per verificare la provenienza e la causa del disagio. Dalle verifiche effettuate è emerso che il 21 febbraio, ovvero venerdì scorso, c'è stato un effettivo superamento dei limiti, in particolare in via Machiavelli al rione Tamburi, proprio da dove erano giunte le maggiori segnalazioni di cattivi odori che avevano provocato anche grossi disagi ai cittadini. Il sindaco Melucci, pertanto con l'obiettivo di accertare con chiarezza quanto è accaduto, ha scritto al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza all'ARPA Puglia e all'ASL Ionica circa gli eventi emissivi riconducibili, si legge in un comunicato stampa di Palazzo di Città, allo stabilimento siderurgico di Taranto. Al Ministero, in qualità di autorità competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, il primo cittadino chiede accertamenti con urgenza del caso ed eventualmente di attivare le disposizioni previste dalla legge.